Fermatevi se avete già sentito questo prima, ma il 2023 è stato l'anno record più caldo. Record più caldo, eh? Da quanto tempo stiamo registrando le temperature globali? Ho chiesto al mio staff. Mi hanno detto che stiamo rilevando le temperature globali da 140 anni. Quindi questo è stato veramente l'anno record più caldo? Perché per quanto siano curati i record globali delle temperature, il 1880 è stato quando abbiamo iniziato a registrarle. Dite che abbiamo i termometri in tutta l'Asia, Africa e Alaska dal 1880 e che sono accurati? Yeah! Così ho chiesto al mio staff. Chi misura le temperature globali? È l'amministrazione nazionale oceanica atmosferica, la NOAA. E dove mettono i termometri? Abbiamo scoperto che la NOAA mette i termometri nelle città. Dove nelle città? Sul cemento e sull'asfalto. Siete mai stati in città in estate? Avete mai camminato a piedi scalzi sui marciapiedi delle città in agosto? Rovente. È lì dove mettono i termometri per misurare le temperature mondiali, sulle piccole isole calde. Cemento e asfalto attraggono calore e trattengono il calore molto più che in campagna. Ci sono più di 5 gradi in città che in campagna nello stesso giorno. Abbiamo scoperto che i governi piazzano i termometri per le misure globali nelle piste degli aeroporti. Sì. Altri li hanno trovati nei parcheggi, sui tetti e sui marciapiedi di cemento. Oh, e inoltre li abbiamo trovati nelle ventole di scarico dei condizionatori. Non meravigliamoci se pensiamo che il riscaldamento globale può cocciare i libri. Meteorologo e tenente colonnello John Shuvchak ha detto questo. Il documento mostra chiaramente che il 96% delle temperature riportate nelle situazioni degli USA sono posizionate in modo improprio, dove molti possono produrre riscaldamento reale attraverso l'effetto del calore urbano dell'isola. La soluzione è semplice. O spostare le città, o spostare i termometri. Penso che dobbiamo spostare i termometri. Ma se lo facciamo, i fantasmi diardi di dollari per l'industria dell'energia verde andrebbero in paccarotta. Non possiamo avere questo finché il riscaldamento globale è un grosso business. Prima di vendervi una soluzione, abbiamo bisogno del problema. Si rivela che gli scienziati hanno creato il problema. Mi chiedo, chi paga gli scienziati che hanno creato il problema? Sarà stato il governo? O l'industria dell'energia verde? Sì e sì. Vi rammento il secondo canale YouTube, il prezioso indice alfabetico, il libro Il Risveglio e Canal 104 Plus Telegram. Grazie di aver guardato.